Buongiorno da più numero 6 Buongiorno da più numero 5 Buongiorno da più numero 4 Buongiorno da più numero 6 Buongiorno da più numero 6 Buongiorno da più numero 2 Buongiorno da più numero 6 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 Buongiorno da più Strati Nicoleta Lortema Buona, mi nomi Strati Nicoleta Lortema Am 15 anni, sono in classe 9a A e sono stata eliminata per molte absenze Buona, mi nomi Strati Nicoleta Lortema Am 15 anni, sono in classe 9a A e sono stata eliminata per causa di violenza Mi nomi Strati Gangea, sono in classe 9a B Si am fost eliminata per una scoana Aș vrea sa v-o schimba, in fine aceste servente Fara ca o copseție si fara sa servente Aș vrea sa isi doreasca, ca de putinul lor La tot sa daruiasca, cu dragoste si sfor Mulțumim svetelor si pana sa inceapa ele